Su il sipario a Lanciano per la 59esima fiera dell'agricoltura, la prima a ripartire. C'è stato da aspettare un po', l'anno scorso infatti l'evento non si è svolto a causa della pandemia, ma quest'anno con tutte le precauzioni i riflettori tornano ad accendersi sul settore agricolo. Una bella giornata di speranza e una bella giornata per il futuro. Lanciano fiera festeggia il 59esimo anno per la fiera dell'agricoltura e dai dati che abbiamo, sia di ingresso di questa mattina, degli espositori che sono oltre 160 e soprattutto delle richieste che abbiamo avuto, siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Abbiamo voluto fare una sfida al Covid, nel senso buono del termine, perché ci siamo impegnati affinché questa manifestazione si svolga con la massima sicurezza per la salute di tutti e il rispetto della salute di tutti. Nello stesso tempo è stata un ancora per gli espositori, per le imprese, per il territorio tutto e per il settore dell'agricoltura. Oltre 150 gli espositori giunti in Abruzzo da tutta Italia. Gli stand saranno visitabili fino a domenica e come da protocollo per accedere è necessario il Green Pass. Quella di Lanciano è la prima fiera nazionale di questo genere a svolgersi in presenza. Siamo stati tra i primi a credere che questo settore, al netto della grande sforza e del lavoro che fanno i nostri allevatori, i nostri contadini, i nostri agricoltori, le nostre aziende, è anche la voglia da parte delle istituzioni di costruire quel progetto che possa dare un messaggio di forte, di ripresa, di rilancio e anche e soprattutto di promozione. L'agricoltura è la chiave, secondo noi, di quello che potrà essere il rilancio del nostro Abruzzo sotto l'aspetto anche promozionale. Il valore dei nostri prodotti è un valore unico, fantastico. Dobbiamo essere capaci di rendere il progetto sinergico per far capire chiaramente che dire un prodotto c'è la nostra terra e c'è la nostra regione.